politica interna e politica estera della destra storica tra il 1861 e il 1871. La destra storica al governo nel periodo compreso tra il 1861 e il 1871 si pone due principali obiettivi. Il primo è di politica interna, il secondo è di politica estera. Il primo è il pareggio di bilancio che viene raggiunto grazie alla tassa sul macinato ma questo provvedimento provoca un certo malcontento soprattutto nel sud Italia. La conseguenza più immediata sarà il brigantaggio. Il secondo obiettivo è la conquista dei restanti territori. Il primo di essi è il Triveneto che viene ottenuto grazie alla guerra tra Austria e Prussia nel 1866. L'Italia infatti si allera con la Prussia e nonostante le sconfitte di Custoza e nella battaglia navale di Lissa la Prussia vince la guerra e cede il Veneto all'Italia. L'altro territorio che rimane da conquistare è lo Stato Pontificio che è difeso dai francesi che entrano in guerra con la Prussia nel 1870. I francesi richiamano le truppe che difendevano il Papa in patria ma i francesi perdono la guerra contro i Prussiani e Napoleone III viene addirittura imprigionato. Ne approfitta l'Italia che attacca i territori del Papa. Breccia di Portapia 1870 conquista dello Stato Pontificio. Pio IX da Castel Sant'Angelo si dichiara prigioniero di guerra. Nel 1871 viene emanata la legge delle Guarentige che è una sorta di risarcimento allo Stato Pontificio dei territori perduti. In base a questa legge il Papa resta in possesso di San Pietro e Castel Sant'Angelo. Monasteri e conventi nel territorio italiano restano alla Chiesa. La legge viene emanata tuttavia il Papa non la accetta e pone il divieto a tutti i cittadini dell'ex Stato Pontificio di partecipare alla vita politica del Regno d'Italia. Quindi non votare e non candidarsi. Ricordiamo che nel 1866 la capitale si era spostata da Torino a Firenze. Nel 1871 infine la capitale del Regno d'Italia si sposta da Firenze a Roma.